Stiamo parlando della variante urbanistica, nella quale presumibilmente, perché Ikea non è scritto da nessuna parte, Ikea sarà un momento successivo per l'approvazione del piano commerciale da parte della regione, quindi una cosa che non riguarda il Comune di Pisa, però di Ikea si parla e quindi io credo che responsabilmente le forze politiche di questo Comune non possano in nessun modo dire no ad un'opportunità che viene, perché è un'opportunità che significa anche posti di lavoro in un momento di questo genere. Noi abbiamo votato in modo favorevole anche in Commissione, dopo 12 Commissioni circa dedicate a questo argomento approfondendo tutte le questioni che riguardavano questo aspetto. Abbiamo fatto un ordine del giorno che abbiamo presentato, l'ordine del giorno numero uno presentato in Consiglio Comunale, abbiamo ritenuto di sottolineare qualche aspetto, i più importanti sono quello della viabilità, il problema dell'Aurelia che già oggi senza Ikea è in fila perpetua, quindi gli interventi circa 10-11 che verranno fatti sull'Aurelia togliendo i semafori, facendo le rotonde, credo che comunque miglioreranno la viabilità della zona. Abbiamo chiesto che si faccia particolare attenzione sul discorso socio-economico che riguarda appunto sia i posti di lavoro, ma ciò che Ikea induce nella zona del mobile e quindi la perdita conseguente dei posti di lavoro che ci saranno. Questa cosa diventa positiva a favore dei posti di lavoro, ma abbiamo chiesto al Sindaco, alla provincia, alla regione che si occupino del distretto del mobile, quindi tutta la zona Cascina, Ponzacco fino a Perignano di Lari debbano essere monitorate in modo particolare e dobbiamo dare a loro delle possibilità per perdere meno rispetto a questa cosa, anzi per essere incentivate. Abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni secondo me importanti, il risultato finale è quello che noi diciamo sì all'insediamento di Ikea, l'ho detto all'inizio e lo ripeto, è un'opportunità che in un momento economico di questo genere non possiamo perdere, non può perdere la città di Pisa. Riteniamo che tra l'altro il costo di costruzione che pagherà Ikea al momento dell'insediamento, e l'abbiamo scritto nel nostro ordine del giorno, debba servire alla riqualificazione di tutta l'area di porta a mare intorno all'Ikea che è particolarmente degradata e quindi anche questa sarà un qualcosa in più che migliorerà complessivamente tutta quell'area. Ecco perché non si può dire di no a Ikea, noi siamo favorevoli. Grazie a tutti.